Veloci, veloci! Prendi la panella, prendi tutto. Signora, sia tranquillo, non è successo niente. C'è il dottore sopra, non so che ho. La mamma chi è? Sono io. Signora. Dottore, come sta? Mi dico la verità. Non mi nascondo niente. Ragazzi, sta bene? Tutti questi cini di pane, non so niente. Ha avuto un mancamento? Mancamento. E adesso è passata. Ha fatto un casino a fare. E che cosa? Abbiamo messo il collare. Il collare a mia figlia? E c'è un cane a mia figlia? C'è un cane, abbiamo messo il collare perché serve, diciamo, due giorni lo tiene e questo lo toglie. Vabbè, vabbè, vabbè. Tranquilla, non ci sono effetti, non ci sono pericoli. Scusate, scusate un altro. Scusate, è l'ambulanza che sta fuori. Come l'ambulanza della signora, vai. Non so, io di questi tempi. Maresciale, in questi tempi. Scusate, vogliono andare a me, maresciale. Signora, è la sua, maresciale. Stanno spostando il nostro, l'ambulanza. Vabbè, ora se ne va, ora se ne va. Stia calma. Allora, mi piace spostare l'ambulanza, se no, ma ci va a sentire, maresciale. E se ci muoviamo un po'. E tu qua stai? Noi giù te l'ascolta. Noi giù te l'ascolta. Noi giù te l'ascolta. Scusate il disturbo, scusate. Lei deve stare a te. Non puoi chiamare io. Non puoi sapere, l'ambulanza. Anche l'ambulanza. Anche l'autista. Si può sapere? Gerardo, non sta l'autista. Chi è Gerardo? L'autista. Non lo so, non ci sa nessuno. Non ci sta nessuno. Non lo so, come dobbiamo fare? Siamo sempre in G, Gerardo. Decidiamo se noi chiamiamo la generale. Qua facciamo spostare la madre. Gerardo. Il carattrezzo. Vado a vedere. Quello sarà andato in G sicuramente. Chi ha caldo? Chi ha caldo? Gerardo! Non chiedo scusa. Gerardo? Che stai a fare? Che stai a fare? Che stai a fare là? Prevestiti. Che stai a fare? Che stai a fare? Sto facendo la rianimazione. Sì? Quella si fa bocca a bocca. Noi da lì abbiamo cominciato. E da questo nasce cose. Che come dobbiamo finire? Vado, finisce che ho prenduto tempo giù. Che sto vedendo?